Ciao sono Goukenji e si, siamo di nuovo qui su Minecraft, Galactricraft Vedete questo bel buchino? Se non l'avete visto guardatevi l'ultima puntata E scoprirete perché è accaduto tutto questo Ma come promesso ci riproviamo Mi sono re-givato tutto, mi sono givato anche un po' di roba Mi scuso, lo so non dovrei farlo Però ci sono stato troppo male Se lo facevo così lasciavo perdere la cosa La mod, quindi mi dispiaceva Quindi ho capito gli errori Perché altro, me lo avete anche scritto voi nei commenti Che ero senza il fuel, adesso l'ho caricato quasi al massimo Quindi dovrebbe funzionare con T3 comunque Poi non mi ero ricordato che, ecco, avevo questa bella mappa Io in poche parole posso andare Col T1 potrei andare su Marte, ah no, T2 Marte, ok E l'asteroide, avevo l'overworld dove siamo noi adesso Abbiamo Marte, che è questo qui E abbiamo l'asteroide Col T3, cosa che non ci andremo Io andrei su Marte Poi c'è Venus, che non si sa Mercurio, che non si sa Jupiter, che è Giove, non si sa Saturno, Urano e Nettuno Roba che non so se ci andremo Potevo farmi la base sopra la Terra Ma io volevo andare in un altro posto Quindi direi che Sì, sì, va bene Quindi io direi che possiamo andare su Marte Intanto qui mi sono preso un po' di Co-Generator, Compressor I tubi per mettere il coso Un po' di ossigeno Questo per costruire la base E questo per avere un minimo di crafting iniziale Anche se so che forse potremmo andare Nel coso Oh, non ho preso il cibo Ehm Forse ho altro cibo Vediamo se ho il cibo Intanto Sì, avevo ancora un po' di cibo Ho salvato qui dalle volte scorse Potremmo anche prendere questa cobblestone Perfetto, ho anche il cibo Che avrebbe detto mai Quindi ho salvato anche il mondo Prima di fare questo video Quindi se voglio posso rifarlo Quindi io direi, proviamoci Sarà un po' più corto, credo Perché non faremo molto Perché non Se va bene, devo seguire altre guide Comunque, possiamo partire F Ok, più al massimo Inventario Perfetto Quindi siamo a posto Incrociate le dita con me Incrociatele Via Sta partendo Andremo su Marte Andremo su Marte Vediamo Dieci Nove Otto Sette Sei Cinco E parte E parte Si sente Si sente Si sente E siamo partiti E siamo partiti Perfetto Perfetto Ah, non mi ho fatto vedere Comunque ho tutto Anche il casco Perfetto 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 Qualcosa sta andando bene Marte o asteroide? Marte, Marte, Marte Volevo andare sulla luna Ma non c'è la luna Non lo so Quindi launch Che cavolo è? Wait a second Ah, wow Wow Boeing Uh, questa non me l'aspettavo Boeing Sapete quelle macchine Che mandano su Marte Ecco Perfetto Siamo ancora vivi Quindi questo mi rallegra molto Perfetto Non so cosa devo fare adesso Come vedete in alto a destra Che sembra Sembra di pausa In realtà sono le mie bombole d'ossigeno Comunque Proviamo a fare No Siamo seduti F No Shift forse Perfetto Eccoci Ok Il problema è lì da frequenza immobile If you want to get Probabil Non c'è Ok Posso anche salire un po' Non so dove fare la base Non so come ritornare indietro Non so se si vede anche Uh, cacchio Thermal protection No, eh Allora, aspetta Io incomincio a costruirmi qualcosa Intanto Giusto per fare Farci qualcosa Non ho fatto le porte Non ho porte Comunque va bene Proviamo a scaldarci Chiudendoci Un attimo Thermal Oh mio dio Thermal padding helm Thermal padding chestpiece Thermal padding leggings E come diavolo si graffano Con Il thermal cloth Oh my god Lana, lana, lana C'è lana Con la pietra rossa Non ci ho pensato Cavolo Quindi Invari del thermal protection Ai 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 No, eh No, no, no Siamo arrivati così avanti Me la gibbo Me la gibbo Eh sì Me la gibbo Quindi Me la gibbo Mi dispiace Ma mi gibberò anche quello Io voglio Andare a scoprire Questo mondo meraviglioso Quindi A dopo Ok Mi scuso ancora Se mi Gibbo le cose Comunque Mi sono gibbato Queste robe qua Che ci metteremo subito No Aspetta 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 Non mi morire Ti prego Ok Questo Questo E questo Ah no Questo qua non va Questo Ok Mi sono gibbato Una cosa che non mi serve Perfetto Ok Forse questo qua è È la cosa migliore Un po' No Non posso farla Va bene così Adesso possiamo anche Andare in giro qua Intanto Non so se ci saranno Mob Ostili Qualcosa vola Tutta in giro Questa qua La noia Via Dai almeno Voglio farvi vedere Un po' Che voglio Vedere anch'io Però L'erora sarà Solo Cobble Perché Eh dai Non posso volare Così però Eh Se È una cosa Abbastanza Complicata Costruire Costruire Sì Ok Sarà un cubo Normalissimo Non voglio fare Opere d'arte Sperano che mi basti Questo Perfetto Non mi dà neanche armatura Quella roba Quindi è solo Un isolamento Termico Perfetto Adesso possiamo anche Chiuderci No Allora facciamo così Usiamo meno Cobble Che possiamo Tanto è solo Provisoria Ci devo mettere Anche Un bel Segnino Qua Se no Mi perlo E volevo fare Un giro Così Allora Questo è a posto Allora Vediamo un po' Se fabbrico così Però Non va tanto bene Aspetto Allora Mi serve Una crafting Table Qui E Una doppia chest No Ma Che diavolo Sto facendo Ah Sì Errori Su Errori Va bene Uno E uno Due Mettiamoci pure Questo qui dentro Questo dentro Questo dentro Questo dentro Questo qua che Adesso è andato così Facciamo così Abbastanza cibo Questo va bene Questo lo piazziamo Questo qua Tutto Questo qua può servirci Facciamo così Questo qua lo teniamo Direi di No Poi dormire Solo di notte Non so che tempo Sia qua Vorrei Morire 1 2 3 4 5 6 Ok 1 2 3 4 5 6 Perfetto Molto bene Oh cacchio Vabbè Facciamo prendere un po' D'aria Com'è che si fa già Perfetto Se il colore Mi sembra Abbastanza giusto Marte Fatto Vediamo un po' Intanto Il sole sta andando giù Quindi vedremo qualche mob E se la vediamo Dovevamo scappare Vediamo un po' Là c'è tipo Così Oh mio dio Ok È pieno di buchi Dovevo vedere che là ci sono dei Passaggi Ma non ci Dovrebbe essere acqua Quella Vediamo un po' Vedere Se cercano di Far andare meno Oh qua Va tutto giù Diavolo Dovrò fare attenzione Vediamo un po' Cos'è questo? Allora Intanto questa Cos'è? È argilla No Mars Su first rock Quindi superficie Oh Oh C'è acqua C'è acqua su Marte Perfetto Abbiamo Visto che il nostro ossigeno Sta andando giù Dobbiamo farci La macchina per fare ossigeno E farci una base Abbastanza decente Quindi abbiamo anche l'acqua Quindi L'importante È che ci sia L'ossigeno Che faremo Ho portato Ho portato gli alberi Apposta Perché credo che Se non mi sbaglio Possiamo prendere l'ossigeno Ma guardate Ma non posso Vivere in un posto Così Nascondiamoci Nascondiamoci Ok Ah strano Non posso dormire Per mostrare Nelle vicinanze Intanto guardate qui Va bene Va bene Quindi io direi Che anche per questo episodio è tutto Se volete Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Se vado avanti Se io l'ho fatto un po' così Adesso Non è Però Almeno ci siamo salvati Se volete che continui Vediamo un po' Cosa possiamo fare Sopra questo bel pianeta Io cerco un po' Nella way Che Vediamo un po' Cosa fare Intanto l'ossigeno va giù Quindi Anche per questo episodio è tutto Come sempre commentate Iscrivetevi un bel mi piace E al prossimo episodio Ciao